Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di girare una sorta di mini-blog per portarvi con me alla riunione del Club del Libro. Perché sì, stasera è la serata dell'incontro, dedicata al nostro incontro mensile, durante il quale un gruppo di lettori, di super appassionati di libri, si vede per parlare di belle letture. Ma ho deciso di registrare questo vlog principalmente perché questa è una serata particolare, perché sarà l'ultimo incontro del 2022. Siamo all'incontro, alla riunione di dicembre, quindi l'ultima prima di Natale e di Capodanno, poi noi ci rivedremo a gennaio. E di solito nell'ultimo incontro dell'anno facciamo delle cose davvero molto carine, abbiamo delle tradizioni, ecco, molto carine, che ho piacere di condividere con voi. Allora, visto che siamo in un vlog, però ve lo voglio sempre ricordare, prima di iniziare ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Bene, adesso iniziamo con il vlog vero e proprio. Allora, prima di tutto vi dico che sono sola in casa, perché la Katia è andata dai miei genitori, dove sarà la riunione stasera, quindi io li raggiungerò più tardi, ma per il momento ho bisogno di un po' di tempo per me, perché devo scrivere. Infatti la tradizione principale che abbiamo nel nostro Club del Libro, nell'ultimo incontro, quello di Natale, è quella di scambiarci delle lettere di auguri durante appunto la riunione. Ma come funziona? Praticamente ognuno di noi scrive una lettera rigorosamente a mano, quindi con carta e penna, da dedicare ai vari membri del club, non a una persona singola, e poi alla riunione prendiamo tutte le lettere, le mescoliamo e ognuno pesca una lettera. In questo modo ogni membro riceve una lettera da un altro membro, a caso, ecco, del Club del Libro, le leggiamo ad alta voce e poi le teniamo per ricordo. Quindi insomma questo è un modo che abbiamo ormai da diversi anni, di farci gli auguri di Natale, di augurarci tutto il meglio per il prossimo anno, ma anche un buon modo per ricordare tutte le belle letture, le belle esperienze fatte durante l'anno appena trascorso. Quindi adesso mi metto subito a scrivere, però prima vi dico che durante la riunione di stasera parleremo della vincitrice del premio Nobel per la letteratura Annie Arnault, la quale è la protagonista della riunione di oggi. Ogni membro del club ha letto un'opera diversa di questa autrice, così ci confronteremo sulle sue opere. Successivamente, quindi dopo la discussione, ci sarà la votazione della lettura per il mese prossimo. E di solito io a dicembre chiaramente propongo tutti i libri a tema natalizio. Il fatto è che lo facciamo da tanti anni, i libri cominciano a scazzeggiare perché non vengono pubblicati ogni anno così tanti libri a tema natalizio, o comunque io cerco sempre di titoli che siano abbastanza carini, insomma che abbiano delle buone recensioni per non proporre letture un po' scontate o che non siano interessanti. Quindi quest'anno ho deciso di cambiare e il tema saranno le favole, che comunque secondo me nel periodo di Natale ci stanno sempre. Adesso vi faccio vedere. Ecco qua, questi sono i libri di cui vi parlavo, le fiabe di cui vi parlavo. Ho sbagliato, stasera non voteremo uno o due di questi, ma ce li divideremo per cercare di leggerli tutti. Perché si tratta di una serie di otto libri, non una serie nel senso che sono collegati, ma nel senso che fanno parte della stessa collana, otto libri, e la collana si chiama A Twisted Tale. Quindi sono praticamente i classici Disney rivisitati. Ad esempio, C'era una volta un sogno. Se Aurora non si fosse mai svegliata, parte del tuo mondo. E se Ariel non avesse sconfitto Ursula? E se Anna e Elsa avessero perduto il proprio passato? Riflessi. E se Mulan dovesse viaggiare nel regno degli spiriti? Un mondo nuovo. E se Aladdin non avesse tenuto la lampada? Eccetera, eccetera. Quindi insomma, sono praticamente i classici, le classiche storie Disney, però se qualcosa fosse andato diversamente, che cosa sarebbe accaduto? Ho letto recensioni molto positive, quindi davvero mi aspetto delle belle storie, però allo stesso tempo saranno letture comunque leggere, non troppo pesanti, molto tranquille, e ci sta. Secondo me a decembre ci sta assolutamente. e quindi sono veramente curiosa di scegliere uno di questi titoli e poterlo leggere. e quindi ci sta assolutamente. e quindi ci sta assolutamente. Grazie per questi mesi insieme a voi. È stata davvero una piacevole scoperta. Si sono aperti davanti a me mondi nuovi, libri che personalmente non avrei mai preso in considerazione, che si sono trasformati invece in immersioni profonde, in mondi nuovi che mi hanno dato tanto. Grazie per le riunioni, sempre molto interessanti, fatte di risate, confronti e dolci molto buoni. Ti auguro di passare un sereno Natale in famiglia, di mangiare tante cose buone senza sentirti in colpa, di ricevere qualche libro come regalo. Ti auguro anche di goderti l'atmosfera natalizia e dimenticarti per un pochino delle cose che ti preoccupano, tipo la bolletta che arriverà dopo le lucine dell'albero di Natale. Perché il Natale è bello per questo, fa ritornare tutti un po' bambini, almeno per un giorno. La tua amicizia è sempre stata per me un porto sicuro. Sei affidabile e generosa. Grazie per esserci sempre. È stato un anno pieno di eventi belli e meno belli, ma ci ha trovato sempre insieme con la voglia di scambiarci idee e pensieri. Auguro a tutti noi un 2023 felice, spensierato e colmo di amore. Il mio si prospetta pieno di impegni bellissimi. Spero di portare presto nel nostro gruppo la piccola Anna e con il vostro aiuto ritramandargli il nostro amore per i libri. Giunti quasi alla fine di questo anno, segnato ancora da pandemie, guerre, inflazioni, povertà, inquinamento, cambiamenti climatici e che più ne ha più ne metta, ti auguro solo di rimanere la persona splendida che sei e di riuscire a leggere un sacco di bei libri. E anche un paio di zero in più sul tuo conto corrente. Qualcuno che scaldi le tue notti come una termocoperta. Quindi, grazie per essere la persona preziosa che sei, per la tua unicità e per il tuo supporto. Grazie perché fai parte della mia vita e ricordi ad ogni nostro incontro che le persone di valore esistono ancora. Non darti mai per scontato e ricorda che ogni lettura è un viaggio che condividiamo e io amo viaggiare con te. Confesso che mi piace davvero tanto ritrovarci tutti insieme e sentirvi parlare dei libri letti. Dato che il Natale si avvicina, voglio ringraziarti con un regalo speciale, un augurio. Che noia, penserai. Preferivo un vero regalo. E hai ragione, ma purtroppo sono al verde. E questo è tutto ciò che ho da offrirti. Quindi ti auguro tanta gioia. Banale, lo so, ma sempre attuale. Tanti soldi. Se sono tanti, tanti, ricordati di me. Ti ho augurati, mi raccomando. E tanti libri belli. Un caro augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai miei splendidi lettori. Mauro. Con affetto, Antonella. Con tanto affetto, Camilla. Buon Natale, amico lettore. Martina. Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!